Il porto di Crotone è sotto la lente di ingrandimento a seguito della riunione che a Catanzaro il sindaco Voce e l'assessore ai trasporti Ilario Sor Giovanni hanno avuto con il commissario straordinario dell'autorità portuale della Calabria Andrea Agostinelli e con l'assessore regionale alle infrastrutture Domenica Catalfamo. In una più ampia discussione sulla situazione dei porti calabresi erano presenti anche il presidente facente funzioni della provincia di Crotone Vincenzo Lagani, il presidente della provincia di Cosenza Franco Iacucci e il vice sindaco del comune di Corigliano Rossano Claudio Vincenzo Malavota e per la Camera di Commercio Francesco Lagani. La fondamentale infrastruttura crotonese ha trovato il suo spazio proprio per la strategicità che assume non solo per Crotone ma per l'intera regione. Nel corso della riunione il sindaco Voce e l'assessore Sor Giovanni hanno avuto modo di illustrare al comandante Agostinelli e all'assessore Catalfamo la visione che il comandante Agostinelli ha sul futuro del porto che è legata ad un sistema di mobilità intermodale che abbia come riferimento tutte le possibilità di comunicazione, porto, aeroporto, ferravia e strada statale 106 previsto nel corridoio Tenkor Scandinavo Mediterraneo. Specificamente sul porto l'amministrazione ha evidenziato la necessità che l'autorità portuale elabori una proposta progettuale che tenga conto delle esigenze di sviluppo dei traffici crocelistici e di portistici con un occhio di riguardo alla canteristica. L'autorità portuale si è poi riservata di accogliere le richieste del comune secondo le funzioni del porto e delle aree da destinare a tale funzione valorizzando in particolare la darsena est del porto nuovo al di porto, il moro foraneo della crocelistica, prospettando anche il banchinaggio tra l'area del molo giunti e il molo commerciale, aria spiaggia delle forche. In un prossimo incontro l'autorità portuale presenterà le risultanze di un piano per il porto la cui progettazione è stata già affidata ad uno studio tecnico per discutere insieme le situazioni che emergeranno.